Sta per essere varato il piano strategico metropolitano che prevede investimenti nell'area metropolitana napoletana. Molti di questi fondi saranno affidati direttamente agli enti locali. Il vostro comune ha già in mente qualche progetto e pensa che sia utile utilizzare questi fondi in cooperazione con altri piccoli comuni? Abbiamo puntato su quella che è la riqualificazione di alcuni assi viari che stavano in condizioni molto precarie, la rivalutazione di beni architettonici di valore storico e culturale sui quali poi si può anche un domani gestire una politica di sviluppo basata sulla cultura e sul turismo. Sono sicuramente convinto che è essenziale la cooperazione tra piccoli comuni. Spero che quindi la città metropolitana si faccia anche come portavoce e promotore di iniziative che possono finalmente rimettere insieme i comuni a cooperare per la gestione delle risorse del territorio.